0-4, 4 gol di Lottaro Martinez 0-4, 4 gol di Lottaro Martinez eppure qualche interista, mi ricordo che criticava Lottaro Martinez diceva che era un attaccante mediocre fine l'anno scorso e tanti interisti l'hanno criticato anche qui su web ho lì un pallone per poco Lottaro Martinez è un attaccante veramente che tutti vorrebbero vorremmo farlo scambio Plovic ci siete interisti, facciamo scambio alla pari Plovic e Lottaro Martinez ci siete giocatore formico, come si fa a contestare Lottaro Martinez a dire che Lottaro Martinez non è attaccato ho trasmesso a Lottaro Martinez 4 gol di entrata e ha cambiato la partita e tanti interisti su web hanno criticato Lottaro Martinez fino allo scorso anno non è decisivo è un fuoco di paglia alti e bassi non è costante non è costante lo volete fare? che giocatore Lottaro? l'unico giocatore forte che cade all'interno Lottaro Martinez non è costante non è costante l'unico giocatore l'unico giocatore